allora ragazzi ben trovati qua io sono il vostro bio il canale lo conoscete bio gh su twitch e bio gaming house su youtube adesso vi spiego un attimo io sono livello 46 su new world vi spiego un secondo vi faccio vedere il rapporto di sulla base delle armi che io utilizzo quindi staffa e ascia quindi arma milì e arma ranged da mago il rapporto degli vari attributi sui danni della sui sui danni partiamo dal mio personaggio principale la mia classe principale che il mago ed è il curatore e andiamo ad aumentare i punti sono senza equip come potete vedere guardate bene sono senza equip che mi aumenta nessuno degli equip aumenta le statistiche quindi le mie statistiche come potete vedere sono quelle base ho appena risentato i punti per farvi vedere allora partiamo dal presupposto una piccola spiegazione che in base al tipo di mago che vuoi fare che voi vogliate fare quindi mago dps o un mago curatore ok il vostro rapporto di skill di attributo scusate di stat points deve essere qua tre a due scusate no 4 a 1 se siete un mago da danno o 1 a 4 se siete un mago da dpi da da cure il 4 1 vuol dire quattro punti ogni cinque livelli devono essere messi 4 punti di intelligenza un punto in concentrazione se siete un mago da danno se siete un mago da cura l'inverso adesso vedrete bene quanto l'intelligenza aumenta il danno della vostra arma la mia arma attuale è un'arma full tra virgolette max level il massimo è intorno ai 550 roba del genere ma è comunque un'arma epica di massimo livello una delle marmi di massimo livello e il danno massimo che fa con l'attacco caricato è 673 mentre danno massimo che fa con l'attacco semplice 207 guardate bene ok quanto aumenta l'intelligenza al danno come volete vedere ogni punto aumenta di 11 di 10 il secondo punto successivo aumenta di di 11 vedete 673 683 694 7047 14 ogni due punti il terzo aumenta di un punto in più di 11 va da sé che se io spendessi tutti e 40 i punti guardate senza avere oggetti che mi aumentano le statistiche tutti 40 punti qua io sarei un ottimo mago da da danno però cosa faccio 3 spell 3 spell e poi basta fine no mi dispiace faccio 3 spell e poi basta fine non faccio altro non faccio altro perché poi non ho più umana devo sbararmi di pozze e non posso curare perché la cura le magie della cura che sono queste qua ho sbagliato scusate che sono queste una due e tre e l'attacco e l'attacco l'unica cosa che aumenta della cura è l'attacco del proiettile pesante è la sola cosa che aumenta l'acqua che può mettere la cura quindi qua di attacco pesante faccio 1139 di cura ma lo faccio un target solo praticamente al massimo 23 target e fine è l'unica cura che ho però per esempio per un mago dps questa cosa qua potrebbe essere molto valida adesso vi faccio vedere invece quello che deve essere il principale sostentamento di un mago da cura da cure un attimo che andiamo un po giù eccola qua concentrazione cosa fa la concentrazione aumenta la generazione del mana e riduce il tempo di ricarica dell'abilità guardate bene i parametri qua i parametri di mana rate regen e di cooldown reduction aumento di un punto mi aumenta di due punti percentuale il mana rate regen e di un punto percentuale il cooldown reduction se vado a due punti mi aumenta di altri due punti il mana regen ma il cooldown reduction resta a un per cento ogni due punti mi aumenta il cooldown reduction guardate bene porto tutti e 40 i punti che ho li porto tutti quanti su concentrazione e guardate ho quasi il 200 per cento di mana regen e il 20 per cento di cooldown reduction cosa succede con questa cosa qua succede che io non faccio danni non faccio danni faccio una cura massima con l'attacco pesante di 673 ed è pochissimo ma ma per le abilità che ho derivanti dalla staffa le mie abilità di cura ho praticamente un mana regen allucinante e c'è un'abilità particolare che è questa qua che consuma mana nel tempo che offre uno scudo che para da qualunque tipo di proiettile che sia magico o fisico e questa è una delle abilità migliori per il mago curatore e questo è il succhio di vita che toglie vita all'avversario e ti restituisce il mana mentre quando lo link a un amico gli dai vita gli dai vita e quando sei al livello massimo fornisci anche l'80 per cento di resistenza da qualunque tipo di danni al membro in cui con cui ti linki va da sé che se tu avessi solo concentrazione quindi tra due live tra cinque livelli tra quattro livelli potrei arrivare al 200 per cento va da sé che questa cosa vorrebbe dire che io mi li posso curare con il succhio di vita per il più spesso il mio amico cioè il mio alleato e oppure mi garantisce comunque un mana recentale da dire ok posso fare tutte le magie che voglio perché tanto recupero in fretta ma non è bilanciato non va bene perché perché poi l'attacco pesante non fa cura poi l'attacco pesante non fa danni quindi non puoi smobbare le tue abilità da mago dps perché deve avere anche la staffa di fuoco non fanno più danni ne fanno molti meno ci deve essere una via di mezzo la via di mezzo per il come dicevo prima per il mago da dps 4 punti di intelligenza è un punto in concentrazione e fare sempre così nel caso di un mago invece da da cure è il contrario vi faccio vedere adesso rimetto le statistiche come avevo prima 23 vedete faccio 859 di cura massima con attacco pesante e adesso guardate guardate cos'è ecco qua perfetto o il 154 per cento di mana regen in combattimento e fuori combattimento il 14 per cento da un redaction a livello 50 io adesso devo aumentare questo qui devo portarlo su di altri quattro punti per arrivare a 36 e arrivare a 50 compresi gli oggetti che ho addosso a livello 50 tu avrai 45 qui con gli oggetti giusti e quindi qui avrai un cooldown redaction di circa 18 17 18 per cento e un mana regen di circa il 170 per cento ok il 160 per cento ti garantisce il mana regen ideale per poter curare e recuperare in tempo in tempo quindi usare meno pozze di cura rispetto a quello che useresti con invece molta più intelligenza con intelligenza in internet base adesso andiamo a farvi vedere con l'accetta che non è proprio l'arma ideale però vabbè ho questa come arma melee dovrei avere anche una spada dovrei portare anche una spada per farvi vedere benissimo esattamente come funziona però andiamo a vedere con la intanto vi faccio vedere la costituzione guardate bene quanto aumenta la costituzione un punto mi aumenta qua praticamente di più di 100 guardate cosa succederebbe se dessi tutti i 45 punti in costituzione che un tank si basa su questo il tank è spada e scudo o martello a due mani guardate io arrivo 8k e 6 di vita ragazzi 8k e 6 di vita con tutti i 45 punti cioè sarei un tank un mago tank però non avrei mana regen i maghi non hanno bisogno poi di tanta costituzione io ho bisogno di mettere a livello 60 io sarò così 4100 di vita senza item poi ci saranno gli item anche che aumentano la costituzione ovviamente per invece un melee quindi chi si occupa di fare il tank tra virgolette qui non c'è il tank o fare dps in melee la stanza più importante è la forza sono la forza e la costituzione in un rapporto se uno fa il damage dealer quindi il dps il rapporto è 4 a 1 su forza e costituzione con 4 punti in forza e 1 in costituzione ogni 5 livelli perché mi baso ogni 5 livelli? perché è la cosa migliore per far capire esattamente come fare a staccare i pezzi dei livelli i punteggi quindi guardate bene quanto aumenta il danno ok con l'accetta io uso l'accetta a melee perché sono full berserker guardate aumenta di non tanti punti perché? perché l'accetta è influenzata anche dalla destrezza allora adesso vi spiego un attimo questa cosa qua le armi che vengono influenzate dalla destrezza sono le armi a distanza e alcune armi da mischia alcune armi da mischia sono l'accetta perché l'accetta è sia a distanza che da mischia e anche i pugnali quando ci saranno saranno aumentati sia dalla forza che dalla destrezza quindi in realtà se uno vuole usare l'accetta e vuole fare una cosa molto equilibrata l'ideale sarebbe 2-2-1 ogni 5 livelli devono essere stati 2 punti in forza 2 in destrezza e 1 in costituzione per avere un buono scambio di danno perché vedete bene guardate quanto aumentano 2 punti in forza e 2 in destrezza 1-2 1-2 avete visto? aumentano i danni non di tanto non di tanto guardate un punto in destrezza un punto in destrezza aumenta di quanto un punto in forza no anzi la forza aumenta un po' di più ok? addirittura un modo per farlo comunque molto bilanciato ma di più sulla questione mini è mettere 3 punti ok? 3 punti 1 punto e 1 punto ogni 5 livelli 3-1-1 3-1-1 ok? per questo se voi volete fare il full berserk quindi non volete mettere punti qua a meno a meno che di mettere solo dov'è? dove diavolo è? di mettere solo i punti per arrivare questi punti qua 1-2-3 e questo ok? per arrivare a ad avere a fare più danni io vi consiglio comunque se volete fare se volete fare mini di fullarvi il ramo questo qua perché sono cioè qua è utilissimo poi i punti vi avanzano 2-3 punti li mettete qua e qui e siete a posto giusto perché se uno riesce a scappare ce l'avete torniamo alle statistiche mi sono dimesso a registrare sì perfetto allora quindi per quanto riguarda martelli e spada resta il rapporto di 4-1 se non sei un tank se sei un tank il rapporto è 3-2 3 in forza e 2 in costituzione o 3 in costituzione e 2 in forza a seconda di quanto vuoi essere un tank da danno o un tank da punti vita per tutti gli altri attualmente le altre armi sono arco e moschetto il rapporto è tutto in destrezza e basta tutto in destrezza e un po' in concentrazione secondo me il rapporto corretto dovrebbe essere 4-1 cioè scusa 4-1 in concentrazione per concentrazione ti dà un po' di mana un po' si ma un po' di cooldown redaction sulle skill alcune skill del moschetto e dell'arco sono un po' lunghette per cui hai quel in realtà già un 5% di cooldown redaction può bastare quindi arrivate praticamente a dare 6 punti se non sbaglio 50 che inizia il vero gioco inizia il vero gioco a livello 50 già dal 35 in poi si è competitivi per quanto riguarda le action war cioè le war all'interno del territorio eccetera ma a livello 50 iniziano le invasion e inizia il vero gioco da livello 50 a 60 più o meno aumentare questi qua questi parametri qui non serve a molto il mio consiglio è se avete fatto melee con il rapporto di 4 su forza cioè scusate di 3 1 e 1 per quanto riguarda chi usa l'accetta o di 2 2 1 a livello 50 smettete di fare questo qui fate 1 1 e gli altri e gli altri 3 qua quindi 1 1 3 quindi arrivate ad avere molta più costituzione e i danni tanto i danni non vi aumentano più di tanto a livello 50 a 60 su questa cosa qua almeno questo è quello che faccio io ecco Don Matteo adesso torno indietro e ti faccio vedere se fai il curatore il rapporto giusto è 3 2 cioè il rapporto giusto scusate è 2 in intelligenza e 3 in concentrazione ogni 5 livelli se invece fai il mago da danni è l'opposto ok io ti faccio vedere adesso io quanto ho perché avevo 23 qua in intelligenza e il resto in costituzione guarda bene quanto è il mio danno massimale ad attacco quindi ecco l'attacco dovrebbe essere l'opposto 32 23 anzi in realtà l'attacco dovrebbe essere così l'attacco dovrebbe essere così poi se tu vuoi dire ok ci penso un attimo faccio full danno questo è ancora meglio arrivi già a 1000 senza e io non ho nulla che mi stiamo mettendo in intelligenza concentrazione non ho niente arrivo già a 1000 tanto poi ho trovo le gemme che danno concentrazione trovo la roba che danno concentrazione vedi 2 concentrazione 4 concentrazione 3 concentrazione per cui quello che è il gap del non dare tanti punti di concentrazione lo aumento con con gli item con l'itemizzazione questo per quanto riguarda il mago dps per quanto riguarda il mago invece cure la cosa più importante è questa è il mana regenerate e il cooldown redaction bene ragazzi spero che questa spiegazione sia stata per voi esaustiva ok adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi buongiorno a tutti quanti voi salve qui al vostro baglio che vi vuole far vedere una particolarità che ha notato non essere ben capita o non essere praticamente conosciuta da quasi tutti quelli che giocano a new world in preview se voi andate premendo g premendo g andate sulla vostra gilda ok io parlo ovviamente per voi per chi è capo gilda capo compagnia o per chi è comunque un console c'è il periodo di assedio voi potete impostare il periodo di assedio ok adesso non posso impostarlo durante una guerra di default va il periodo di assedio di default è dalle 16 alle 16 e 30 se voi siete come noi come tutti gli italiani gente che gioca prevalentemente la sera è meglio che voi facciate un comorario dalle 21 alle 21 e 30 ok o addirittura dalle 22 io se potessi imposterei dalle 21 alle 21 e 30 perché è l'orario giusto la gente torna a casa dal lavoro verso le 7 e mezza tra le 6 e le 8 al tempo di mangiare farsi una doccia e poi entrare a giocare mi raccomando molto molto importante dovete impostare questa cosa ogni volta che voi giocate che voi avete conquistato un territorio perché altrimenti se non lo fate di default vi metterà all'orario delle 16 di pomeriggio e molti non potranno partecipare anzi vi ritroverete magari a non riuscire a difendere per cui il mio consiglio è questo mettete un orario superiore alle 20 tipo dalle 21 in poi bene ragazzi qui è tutto da parte del vostro bio ci vediamo alla release di New World ciao 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 Grazie a tutti.